Facciamo una panoramica della manifestazione di erba di quest'anno. Grazie. Io credo che è una buona idea di installare in direttamente come questo. Sì, sono entrati. Quindi questa è la seconda. Io voglio andare! Buongiorno! Qui c'è ancora la grande tenda della Skate Point. Questo lo spendo da Ottica San Marco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.